ciao 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 amici mezz'ora che sto dicendo che sto entrando allora questa canta ora dieci minuti 9 minuti 8 minuti ciao ciao amici ciao mitici condividiamo la live 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 allora perfetto perfettopulos ciao amici benvenuti ragazzi grandissimi mi hanno rubato il pettine ma io mi chiedo ma per quale motivo mi devono prendere e spostare il mio pettine non c'è effettivamente nessun motivo allogico ragazzi solo di non farmi ciao regali di non farmi pettinare per voi ragazzi quindi non ha alcun senso metterlo la allora condividiamo one moment live intanto ci sono la prima missione tornata nascosta della luna questa carrera rs spettacolare aspetto adesso in live ok condiviso questa stanno vendendo però vabbè dalla Mercedes questa non è la Mercedes questa è la Hyundai ibrida si questo siamo già quasi al formula 1 siamo già quasi al formula 1 di led eh figo forse arrivano da qui poi i led che montano nelle macchine normali sono già quasi all'interno delle macchine oh madonna sta succedendo cose strane alla live sul cellulare cose molto strane allora ciao amici miei adesso cominciamo con un po di circo oh grande stream elements grandissimo diesel o benzina amici miei perché oggi sì sì devo chiudere assolutamente twitch la cellulare che sta facendo cose strane perché oggi con l'amico che abbiamo giocato insieme ciao amici miei mitici benvenuti adesso andiamo eh andiamo a giocare tranquilli arriviamo subito con l'amico ok perfetto ma che bella questa qua Daiatsu eh? elettrica altro che Daiatsu l'ha fatto l'altro elettrica nel 70 eccolo sei arrivato per fortuna perché ci sei mancato oggi nella live non c'era il dissociatore non c'era il diesel 1,78 ciao Kiri grandissimo allora diesel 1,78 la benza allora sete di diesel o sete di benza questa è la mia domanda della live di stasera mitici 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 ciao buonasera buonasera Pierpaolo mitico allora adesso andiamo così tanto per cominciare a fare un paio di giretti ciao ciao sharder ahahah grande andiamo a farci un paio di giretti e poi vediamo se magari facciamo un periodo di online se avete voglia eh bisogna dirlo sharder bisogna dirlo a se entra anche phil stasera rubens juves inter ahahah e vai e noi invece siamo a vedere marco drums games che è molto più interessante delle partite ragazzi anche se mi piace il calcio seguire solo e assolutamente marco drums game channel allora ho condiviso tutto bella Kiri mitico oggi abbiamo fatto una live fichissima con l'amico sharder che va che è un cannone oh sharder sharder sai cosa ho comprato? ti faccio vedere oh ma chi è mi sta a scrivere? lord 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 ok faccio un occhio a te e uno alla partita bravissimo bravissimo l'importante è che non esci mai da Marco Drums ciao amici benvenuti ragazzi allora volevo farvi vedere il mezzo che ho comprato oggi e andiamo a provarla guardate 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 e l'ho anche messa a posto eh eh cosa? cosa? non è questo Peugeot se riuscite a mettere in fondo no perché bisogna farlo in SVG è un formato che non so niente come si può fare oh amici ma ho fatto io la chiamata per sbaglio eh sì guardate ragazzi ci sono tutti gli amici in live del gruppo grandissimi ciao eccolo qua vi saluto e non posso andare là amore mio charder ciao ragazzi eh sì perché c'è anche nella live quindi è un disastro va bene ragazzi grazie grazie allora ragazzi ho fatto partire una chiamata di gruppo collettivo fichissimo tra l'altro dei nostri amici dei nostri amici c'era il mitico Pierpaolo il dissociatore la mitica Lord il mitico Lord la mitica Lord il mitico Lord e la mitica Julie ok allora mi diceva Daitona la Sunday Cup ah non si può fare volevo fare un po' di soldi ho affinito tutto quello che avevamo oggi eh ho comprato allora vediamo Dragon Trail ho comprato vediamo Dragon Trail nooo ho sbagliato raga volevo farlo difficile vabbè fa niente ti dissocio da Warzone va bene va bene allora ragazzi domani sera ore 20 e 30 Warzone con il mitico Pierpaolo il mitico Lord e anche Morrison eh ragazzi vi aspetto domani sera allora adesso voglio provare questa eh allora l'ho provata visto che questa pista la conosco abbastanza bene con la Ferrarina ho fatto dei bei tempi oggi l'amico Sharder usava questa e me la sono si 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 ok ok Sharder adesso faccio un po' di di offline poi facciamo le partite all'insieme ok adesso vediamo se riusciamo a radunare anche qualcun altro che eh eh insomma non è poi stabilissima eh sto Peugeot sembra un po' come l'Audi cosa dici Sharder è un po' come l'Audi questa qua ciao amici mitici allora ho comprato questa meravigliosa Peugeot allora intanzitutto benvenuti scrivetemi ciao Lord grandissimo Lord scrivetemi in live così vi saluto direttamente online e in live wow quante parolone inglesi e mi è andata via di traverso mi è andata via questa Golf guardate la Golf ah era come quella che volevo comprare io eh sì ciao Lord mitici ciao ragazzi benvenuti mi raccomando iscrivetevi al canale di Mark Drums Games grande amore mio grazie Carlo ok allora porca loca mi sembrava che andava un po' meglio sai che fosse Lord interlocatore sai che mi sembrava che andava un po' meglio la la Ferrari mi sembra una cosa veramente fuori dal mondo ma c'era anche la Peugeot uguale a questa qui che vedete davanti la Volkswagen però al punto ho seguito il grandissimo Kevin che mi ha consigliato di prendere questa qua che la usa anche lui e la stavo usando oggi Charler in online il grandissimo Charler abbiamo fatto delle grandissime partite online e le facciamo anche dopo ok ragazzi ciao Marco ciao Giulie mitica la mia moderatrice grande Giulia senti che adesso fischietto brava Giulia avanti grande 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 grandissimi ragazzi e così che si fa a te Jupiter grandissima a me ragazzi mi stanno lacrimando gli occhi da oggi ho respirato talmente tanto diesel dalla macchina di del mitico Charler che andava diesel addirittura scintillava infatti Giulia bellissima ma come mai sono arrivato terza controllo meglio allora l'Audi si effettivamente l'Audi ciao ragazzi benvenuti miticissimi ho comprato sta macchina ma la motivazione per cui ho fatto un giro non la conosco ma ho fatto un giro Marco canta Dragon Ball Dragon Ball che c'è molto oh grande Giulia che belle parole bello bello sentirtelo dire a me sto lacrimando gli occhi ragazzi anche noi anche noi tantissimo ci sei mancato vediamo un attimo un pelino ciao mitici amici miei grandissimi amici di Twitch ti raccomando se siete iscritti grazie se non siete iscritti iscrivetevi all'unico inimitabile aspetta che si vede un po' male il mitico logo ecco al mitico logo strafichissimo di Marquodrams Games che si potete schiccherare le orecchie ah ma questo è perché si è spostato ok però provo le linee sul game pass bravo così ti voglio grandissimo grandissimo prova tutto ci sono anche dei giochi che toglieranno dal pass quindi ti consiglio di provare prima loro prima che li tolgano c'è la lista su Facebook comunque è bella guarda Bruschetta dai che andiamo in live dai che andiamo in live Bruschetta ti va? c'è anche il mitico Sharder dai dai Sharder minchia ragazzi scusate se ma questo era un giro ma perché ha fatto un giro? quale motivazione scientifica c'è nel fare un giro? Bruschetta si dissocia Pierpaolo allora Sharder e Bruschetta se volete fare un po' di online me lo fate sapere ok ma la motivazione scusa per stamattina Bruschetta per cosa? esatto grandissimo ma si vai tranquillo ah è uscito dalla live improvvisamente grande Kiri io ero in live su YouTube ragazzi non sono riuscito a venirti a vedere Bruschetta scusa ohiai oi camarindo ma figurati grandi ragazzi grandi ragazzi allora io sto provando questa macchina perché allora il mitico abbonati di furfanti grande e non è un problema io non è un problema mi iscrivevi amica mia grandissima noi siamo amigos e non c'è problema A parte il gioco ragazzi, a parte Twitch che ringrazio sempre che è una grandissima piattaforma perché fa conoscere anche la gente e fa unire, è una bella cosa, io voglio creare una community, capite ragazzi, io voglio creare la mia, la nostra con mia moglie, la nostra community con voi presenti, capite? Quindi è una ficata assurda, bravo, bravo, bravo ragazzi, e se volete anche un bel abbonamento a Marco Drums Games, grandi ragazzi, dai, forza, forza, impegniamoci a fare gli abbonamenti, ah ma prima hai fatto tre giri, ma sapete che ho parlato con voi e non mi sono reso conto di aver fatto tre giri? Interessante Watson, comprai me gratis, tirk, grande Pierpaolo. Ok amici miei, stiamo provando questa Peugeot, comunque vi stavo dicendo che voglio creare una bella community, che così giochiamo insieme, bella Psico, grande, comprai me gratis, tirk, come corresse, guarda come corro, mitico Luigi, guarda che gare avvincenti da Marco Drums Games, ma cos'è la Formula 1? Ma che cos'è il Moto GP? Ma che cos'è il tagliaerba? Guarda qui, 150.000 euro di macchina, vado a tagliare l'erba, ma dai raga, e sono pure ultimo. Ah forse per quella era finita male la gara di prima? Forse parlando parlando non mi sono reso conto. Lo faccio alla moderatrice, sì sì sì, sì sì, Giulie, serve serve, domani sera torna Warzone, sì, delle pippe viventi. Allora se già Marco Drums è la cavicchia al Gran Turismo, domani sera si ride raga, se volete ridere proprio. A parte che arriva il grandissimo Pierpaolo che sicuramente sarà molto più bravo di me, ci sarà anche il grandissimo Lord che sicuramente sarà più bravo di me, ci sarà il grandissimo Morrison che sarà più bravo di tutti i nuovi messi assieme, ma ci sarà anche tanto divertimento, c'è la Bragali che è qua di fianco a noi, c'è Marco Drums che insomma, eh? Grande, Psico, Luigi, Luigi, Luigi è un grande dei gruppi Facebook, amico mio, grandissimo, ogni tanto viene a trovarci, mi fa tanto piacere. Grandissimo Luigi, psicotico, sì, mi sembra che si chiama così, non vorrei dire adesso una cazzata, ma faremo squadra, dai, poi se perdiamo mi dissocio, beh se perdiamo io non vi conosco. Per me è sempre bravo di giocare, oh, stavo leggendo la Giulie, raga, e qui, ma anche il tipo qua è andato dritto, quindi dai, non sono solo io. Non ho letto il messaggio di Sharder e il mitico Bruschetta se vogliamo fare qualche garetta insieme. Se volete lasciate il vostro ID, ragazzi, della Play, eh, che così giochiamo insieme, facciamo qualche bella partita là insieme. Oh, Kiri, ci fai questa, questa, questo colpo basso, eh, non viene a vedere i mitici che giocano, vabbè ti guardi la, 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 la replica, dai, Kiri. Mi raccomando, ah, grande, grande Giulie, ah, ah, grande Giulie, ciao ragazzi, mitici amici di Twitch, grandi, ci sono, ma non posso giocare qua. Ah, ok, 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 ma guarda che domani è la prima di tante, eh, non pensare che ne facciamo una e poi basta, se funziona tutto l'ambarodame, ci divertiamo, ne faremo anche altre. Il problema è che questa macchina non va una sega, eppure l'ho elaborata al massimo. Non trovo il feeling, non trovo il feeling. Trovavo più feeling con la Ferrari, com'è possibile la situazione? Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa di un po' più serio. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Iscrivetevi al canale amici! E se proprio avete un abbonamento che vi avanza, datevi un bel abbonamentino al Prime, grandissimi ragazzi! Così continuiamo a giocare, se volete giocare con me lasciate il vostro ID, iscrivetevi, lasciate il vostro ID e ci fa una partitella insieme. Infatti stavo vedendo con il mitico Bruschetta e il mitico Shader, se volevano fare una partitella, anche oggi l'abbiamo fatta, se vogliono fare anche adesso ci andiamo a fare una bella partitella insieme online. Io però sto provando questa macchina e devo dirvi la verità, non riesco avere il feeling giusto che ci vuole. Ho paura che per me devo prendere quell'altra, vedi, 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 come prima ragazzi, prima almeno sono arrivato terzo, cosa è successo qua? Ciao mitici, ciao mitici, ciao mitici, ciao mitici, ciao mitici di Twitch. Allora, non lo so. Ciao mitici, ciao mitici, ciao mitici. Ah, che palle Giulie. Bravissima, bravissima, bravissima. Mai mulà, mai mulà ragazzi, mai mollare. Lo dicono gli emiliani ed è un detto incredibile, bravissima, bravissima. Allora, noi sai che siamo qui, possiamo sentire, ci vediamo nelle live, Giulie, ti fai da modellatrice, ti ringrazio così, passiamo un po' di tempo perché davvero qui è veramente triste senza di voi e il mondo è difficile, veramente difficile ragazzi. Esatto, sempre a migliorare, ci sono i momenti dove tutto peggiora ma ci sono anche quelli che a un certo punto poi si sblocca magicamente tutto. L'importante è perseverare e tirare, tirare sempre il massimo, vedrai, vedrai, prendere anche dai momenti difficili le parti migliori e cercare di... Esatto, esatto. Con la curva ho fatto a fuoco ragazzi. E niente, dai dai, ci divertiamo insieme mitica Giulie, Lord e tutti i ragazzi eh. Non ho capito, non ho capito, non riesco a leggere mai. Ah, ok, perfetto. Porca mia. Oh, è veramente tosta sta... Sta Peugeot, ma come mai è così tosta sta Peugeot? O non trovo il feeling, o c'è qualcosa nel settaggio. Shader e il mitico Bruschetto non mi stanno rispondendo, quindi non so se sono ancora dentro. Tu vedi chi c'è dentro, madre mia? Nella live? Bisogna capire chi c'è dentro? C'è Bruschetta o Shader? Che magari stanno correndo e non riescono a scrivere. Ok. Ah, grandissimo Shader! Scusa, scusa, infatti pensavo che... Sì, Bruschetto è andato. Vabbè, volevo fare una partita anche col Bruschetto, ma è andato. No, stavo dicendo che non riesco a trovare il feeling con questa Peugeot, caspita. Ma forse, forse, forse l'ho trovato un po'. Sì, sì, lo facciamo, lo facciamo. Stavo cercando di trovare un po' il feeling con questa macchina, perché... Andar dentro e girarmi a vuoto perché non riesco a trovare il feeling è ridicolo, nel senso. Le vince tutte Shader senza un po' di bagarre. Shader è bravo, eh. Cosa è? Cosa è scritto, amore? Ah, grande! Dovresti fare un bel logo Marco Drums Games e condivido perché non c'ho il tempo di farlo. Ah, ah, ah! Sono andato anche per caricare gli SVG. Ah, madonna! Fare questa curva di traverso non aiuta nessuno, soprattutto me, di andare avanti. È impossibile che sono in tre gare e non riesco ad avere la velocità per andare a prenderli. Dead chance. È carino, è carino, è carino. L'ho provato anch'io. È carino, è carino, povero lord. Oggi ho trovato davvero un gioco fighissimo che tra l'altro c'è la live su YouTube. che si chiama Course of Dead Gods. È veramente figo, è un po' la Hades di quei giochi difficili, un po' Souls, ma è veramente, veramente, secondo me, molto più bello. Uh, questa l'ho presa a cannone e il tipo era proprio in mezzo, grande tipo, eh. Mi hai tolto... Già sto prendendo un po' di più... ...la mano. Eh, ma, però... Eh, ma, però... Ma, eh, ma, però si dice, non si può dire. No, eh, ma, però... Eh, però... Eh, ma... Ah, eh, però... Si può dire, si può dire. Si può dire. Si può dire. Eh, si. Allora, questa è la prima decente che ho fatto con questa macchinina. Ah, lavori, ci sei sul tardi in settimana. Guarda, io normalmente in settimana finisco le undici charter. Quindi se riesci ad arrivare per le dieci, così ci facciamo una mezz'oretta, un'oretta di rigare, anche perché è piacevole proprio far le gare online, eh. Eh... Ok, perfetto. Se riusciamo in settimana, buona. Se no, facciamo sabato e domenica. Anche perché, per non poi portare solo un gioco, eh, un paio di giorni a settimana porto anche altro. Porto Tini, Tina Teens, World of Borderland e eh... Wonderland, scusate, e anche eh... Non so, Horizon Forbidden World, oppure ehm... Tokyo Ghostwire. Io non c'ho il pettino perché me l'hanno messo di lavoro. A me mi mapperò. Esatto, vedi che ci diciamo? Ahahahah! Allora... Eh, sa di... Sa di... Certo, vuoto. Aspetta, volevo farvi... A parte i pechi di filestia, scusatemi. Volevo vedere un attimo come prendo quest'ultima curva. Oh, raga, sembra una gara vera. È troppo bello vedere il replay. Guarda, qui lo presa il cannone. Eccomi, eccomi. Vediamo. Eccomi. Sì, questa... Questa Peugeot è un po' come l'Audi eh. È un po' come l'Audi questa Peugeot. Sì, 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 sì. Allora, eh... Vorrei capire se si può migliorare qualcosa. Allora, ragazzi, come state? Come state? Tutto bene? Tutto bene? Vediamo un attimo se si può migliorare un po' la macchina, perché poi alla fine è anche una questione di... Ho preso tutto... Ho preso tutto... Ho preso tutto... Perché? Ho preso tutto... Sta facendo una doccia? Sì. Allora, morbide... Prendo in mano... E chi mi fa da moderatore? Passami i pezzi... Da moderatore? Ci sono l'Ord, io... Che cosa ti devo dare? I pezzi... L'ho spento io... Perchè? 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 Ok... Allora... Vediamo un attimo al lago maggiore come si comporta... La comportamentazione... Vediamo, vediamo un attimo, vediamo, vediamo un attimo... Così almeno... Allora... Try Mountain riuscivo a farla bene... Però con questa Peugeot... C'è già più... C'è già più rossi ragazzi... C'è qualche allergia... Che non sono allergico a nulla ma... Probabilmente sarà in giro qualcosa nell'aria... Queste persone... Aperti i tornei ufficiali Sony... Eh sì? Su GT? E' già più combat... Ah ok... Ecco questa va in sottosterzo... Cazzarola... Quello che non faceva la... 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 Vediamo un attimo... Se riusciamo a fare... A far qualcosa... A capire la macchina... Come... Come si comporta... Eh? Allora... La velocità non ce l'ha... Ma chi cazzo è che mi gira da dietro? Ma sei scemo? Sulla parte dritta... C'è... Raga ma l'avete visto? C'è ma come... Come fanno? Ma come fanno i botto a venirti addosso sul dritto? Non esiste... Non esiste ragazzi... Ok... Ok... Charler... Vi dico... Per leggerti sono andato fuori... Sì... Io rivolgo alle 6 in sera... Quindi... Anche 7 a volte... Quindi non è che... Le live le faccio tutti i giorni... Dalle 8 e mezza... Dalle 11... Indipendentemente poi da... Dal gioco che porto... Però gli orari sono bene o male quelli... Se ritardo un pelino ragazzi... Che vi vedete verso le 9... Perché... Esita di... Di mangiare un po' più tardi... Un po' perché stiamo vedendo... Un qualcosa su Netflix... O Disney Plus... O Skype... Ci prese di brutto... Ciao amici... Ciao amici... Amici di Twitch... Grandissimi... Si corre... Si corre stasera... Adesso sto provando la macchina... Che ho comprato oggi... Che è sta Peugeot... GR3... Che mi sta facendo diventare un po' matto... Vi dico la verità... Non riesco a verci il feeling... Come ce l'ho con le Ferrari... E con la... Mazda... Mi va... Mi va un po' in sottosterzo... In sovrasterzo... Non so che cacchio... C'è sta magia... Poi... Non ha... Non ha... Ripresa... Non so se bisogna dargli una bella modificata dentro nei settaggi... Nel setting... Ciao amici di Twitch... Benvenuti ragazzi... Mi raccomando iscrivetevi al canale eh... Grandissimi... Vedi... Vedi che mi parte... Mi parte... Mi parte via... Mi parte via... Eh sì... Beh... Sinceramente i giochi di mal di Mortal Kombat... Mi interessa più di tanto... Se c'è qualcosa sul GT... Allora è interessante... Però... Vabbè... Grande Sony che li fa... Che li organizzo... Quindi... Non riesco ad avere il setting... Non riesco ad avere il... Madonna ragazzi... Si... Figo è figo... Poi Sony... Fa questi tour day che sono ufficiali credo no? Eh sì... Credo proprio di sì eh... Adesso è appena uscito e... Si staranno concentrando sul metterlo a posto... No... Non riesco a avere il feeling con questa macchina ragazzi... Non riesco proprio a... Peccato... Ho speso 600.000 tra comprarla e metterla a posto eh... Tanti soldi... Non riesco ad andare forte... Non riesco a... A prenderli... Eh sì... Eh... Eh... Se sono ufficiali dovrebbe esserci un paglio soldini veri eh... Eh... Che peste di... Ho 6.000 miticoin... Eh... Giulii... Grande... Bisogna spendere questi miticoin... La manetta... Spendete... Spendete i miticoin ragazzi... È la moneta... Del futuro i miticoin eh... Bisogna fare dei pronostici qualcosa... Perché hai aperto la porta? Eh... Però non aprire la porta che si vede... Lascia metà... Ehm... Madonna... Grazie... Quante roba... Ma... Bisogna essere delicati con questa macchina eh... Ciao Enrico... Ciao... Morrison... Uela... Enrico... Grandissimo... Ciao... ciao... Allora... è la Peugeot, adesso non mi ricordo quale modello, però è la GR3, ho speso 450 mila per comprarla, l'ho comprata oggi, la sto provando, però sinceramente non mi sto trovando, è questa qua, te la faccio vedere, grandissimo, se non sei iscritto iscriviti Enrico, grande grande grande, poi sto facendo anche le gare online, se ti va di giocare con me, iscriviti al canale, ci scambiamo il nick e possiamo fare delle gare online, il grandissimo Morrison è arrivato, grande Morrison, ragazzi domani vi aspetto mega mega live con l'amico Morrison, con l'amico Lord e con l'amico Pierpaolo, il dissociatore per eccellenza a Warzone, ok? Oggi ho scaricato il gioco, l'ho fatto funzionare, quindi domani 8 e mezza vi aspetto per una mega live festeggiante, un mega live per divertirci a Warzone, sicuramente sarò sempre morto, quindi il divertimento c'è vedermi morire, ma per me non sarà molto divertente, comunque Enrico guardala qua, è un Peugeot che è una figata, ti dico la verità però non riesco a trovare il feeling, papà fa un cuore, noi ci siamo, grande Morrison, ci sarei anch'io su Cod, la besteggio trova, allora siamo un canale family friendly, quindi nel party bisogna proprio stare tranquilli, vabbè se hai Gran Turismo giochiamo a Gran Turismo, dai non c'è problema, anche perché domani sera è tipo una prova esperimento a vedere come funziona Warzone e anche perché è una richiesta Cod, ce l'ho sulla PS4, grande Shard, sì ma facciamo anche altri giochi, il bello è trovare, io voglio creare in questa spettacolare live di Twitch, degli amici anche per giocare insieme amici miei, di creare una bella community tra di noi, capite? Quindi, ciao ciao Zaniboy, ciao figlio mio, grandissimo, ah è arrivato Zaniboy, mio figlio, e creare una bella community, capito? è un casino, a quale, a quale? A Warzone, sì ho giocato al Warzone, a Call of Duty, però ti dico la verità, sono più portato a questi giochi qua di macchine, anche perché col volantino Logitech G9123 è una figata assurda, poi c'è il mitico logo che si può schicchierare a e, grande, braga di mia moglie, grandissima, e come si dice, e Warzone è bello ma, porca, quante vettorie prevedi domani? Sharder, bestemmia che si va in chiesa, grandissimo, Morrison, io ne prevedo due, due, due su, non si sa quante, allora praticamente la prima quando entreremo, noi entriamo, tutti ci buttiamo dall'aereo, crepiamo subito, questa sarà già, ti fa ridere, a prescindere, e dopo, dopo, insomma, vediamo un po', allora io ragazzi, volevo comprare questa, visto che c'è anche il mitico Enrico Sharder, provo a farmi vedere, eh, Morrison, se non ti piace la mia bella macchinetta, l'ho comprata oggi, 450 mila euro, ti ho visto il Curris, il volante che hai tu, costava, l'ho visto dal Curris, penso che sia una cosa inglese, non ho mai sentito questo Curris, perderemo appena avviato il gioco, sì, credo anch'io Lord, credo che è una sensazione che ho, questa di perdere appena avviamo il gioco ce l'ho anch'io un po', ho la sensazione che finirà malissimo, ah, è tipo Euronics, ok, la stanza l'hai creata, benissimo, dai, fammi fare ancora due cose, allora, io volevo comprare questa, guarda, ti faccio vedere, grande, grande Sharder, allora, se volete giocare con noi, date il link e entriamo subito a giocare, ragazzi, io volevo comprare questa, perché alla fine è una GR3 lo stesso, ok, raga, quando volete entrare, ok, adesso, ok, entrate, ok, perfetto, perfetto, già, è un gioco, gioco, grandissimo, ciao ragazzi, benvenuti, oh, caffierino, grazie amore mio, oh, scusatemi che, oh, il dolcetto anche, caffierino, ti posso dare un bacio per un caffè, un dolcetto, c'è Olivia che vuole mangiare il mio dolcetto, grazie amore, vuoi il dolcetto Olivia? No, non si può, il dolce non si può al cagnolino, allora ragazzi, non ce l'ho ancora questa, e, allora, Sharder, io volevo, invece di comprare questa che mi hai consigliato te e il mitico, sì, è vero, dolcissimo, l'amo tantissimo, grazie amore mio, e, invece di comprare questa, io volevo comprare questa per provarla, invece poi dopo ho ascoltato voi, ma, diciamo che non è che mi son pentito, eh, e poi volevo comprare una di queste, questa Vision a me piace un bordello, ragazzi, secondo me, ti sta graffiato la tua nuova Ferrari, ti immagini, giumattate, vabbè, volevo comprare questa qui e non, allora, la mia ha 800 CV, ciao amici miei, mitici, andiamo a farci un po' di online col mitico Sharder, lui va forte però, raga, eh, facciamo qualche bella partitella online, dai, andiamo in lobby, allora, mitico Kevin, oggi non gioca, è vero, gioco gioco, come mai, oh, gioco gioco, c'è anche il mitico Morrison, eh, qui in live stasera, domani sera, gioco con Morrison, e il mitico papà, Maurizio, dai, 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 gioco gioco, ti voglio domani sera, 8 e mezza, Warzone, Morrison, Lord, il grandissimo Pierpaolo e Marco Drums Games su Warzone, tutti insieme in live, mi sta lacrimando anche gli occhi, ragazzi, sto piangendo dall'emozione, comunque no, è vero, è una figata, ragazzi, davvero, hai capito, gioco gioco, oh, ti aspetto, eh, Dragon Trail, davvero, gioco, davvero, davvero, non so se c'è ancora dentro Morrison, il grandissimo, è venuto a salutarmi, di solito ha tante cose da fare, è grande, entra dentro, saluta, poi esce, non so se c'è ancora adesso presente adesso, però sì, 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 ti aspettiamo domani, gioco gioco, Marco Drums, Morrison, il papà Maurizio, e, eh, quindi non so dei due chi gioca, però, probabilmente magari giocheremo tutte e due, e, eh, il grandissimo Lord e il grandissimo Pierpaolo, il dissociatore che adesso credo che sia dato a mangiare la peppata di cozze, la prima, ok, scusami perché ce ne ho due, non vedo, c'è la mia faccia lì, eh, 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 ieri le marchiavi col Sharder, col nome lì, eh, oppure fai Bella Raga o Marco Drums, eh, eccolo qui Morrison, ah, ah, grande, vedi gioco d'oco, vedi che c'è domani, mi ha passato il suo ID della play, oggi credo, se non mi ricordo male Morrison, stamattina, è che non mi ricordo, tanto bene, ah, gioca Morrison, ah, grande, vabbè, tu sei con noi, dai, sei dentro in party, o se non volete entrare in party va bene lo stesso, comunque va benissimo, va benissimo, domani facciamo Warzone ragazzi, vi aspetto Warzone a tutti, eh, il mitico Morrison, il mitico Lord, il mitico Pierpaolo e il mitico Marco Drums Games, grande, allora gioco gioco, iscriviti al canale di Marco Drums, fai un bel abbonamento col Prime, mandami mille euro su Liban e ti faccio giocare con Morrison, subito, subito, dai che smazziamo 500 euro, Morrison, no, non si può dire così perché sto scherzando, la minestra di patate, buona, la minestra di patate, buona, è un piatto un po' invernale, eh, la minestrina di patatine, la connessione è scaduta, oh, 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 Sharder, il caffè, sì, 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 mia moglie è sempre così ragazzi, fantastica, sono entrato, sono riuscito a entrare, sono nooo, 700, che palle sta cosa di cavalli, arrivo, eh, 784, madonna, io ci spero sempre, mitico, grandissimo, 700, ma quanto devo tirarla giù per andare a 701, ma ancora sta storia, eh, non ce la faccio, eh, va bene, raga, devo mettere, allora, le gomme dure ho messo, eh, la tua, quant'è che è di massimo, Sharder? vabbè, dai, ho tirato giù, fa niente, ho messo le gomme dure, se anche tu metti le gomme dure, va benissimo, così almeno non abbiamo troppa di varità di, di, di gomma. Che cazzo sta giù, prendo l'aiore e vengo a pranzo da te, ah, ah, soprattutto c'è tanta minestra di patate che faccio io, eh, minestra di patate, ragazzi, tanta roba, eh, patate sono top, a me gusta la patata, sembra una cosa assurda, ma con questa macchina mi viene quasi meglio giocare da fuori, che è una cosa ridicola a un certo punto, viva la patata, esatto, esatto, esatto lord, per quello che ti piace tanto, eh, eh, a che ora? 8 e mezza, 8 e mezza, 8 e mezza, 8 e mezza, gioco, ti aspetto, eh, 8 e 30, 8 e 35, dai, 5 minuti in più te ne do come, come ritardo, ma, ma no, venite tutti che faccio la minestra di patate, ah, pensavo che dicevi venite tutti domani sera che facciamo la, la live, va bene, va bene, una bella minestrina di patate, grande Giulie, grandissima, anche a me piace la minestrina di patate, eh, ma la fai liquida, con la brodaglia, ok gioco, ti aspettiamo domani, eh, siamo dentro noi, ah, la fai, quella, con la pucciozza, quella, quella che puoi mangiare col pane, spettacolo, tipo purea, cremosa, uh, buona, buona Giulie, mi mancava che venivi tu a parlare di cibo, eh, grande, grande, grande Giulie, mi sei proprio mancato, dai, dai ragazzi che ritorniamo un po' come quello che ti dicono i messaggi privati, eh, alla normality, the show has gone, ragazzi, mamma mia quest'occhio, per me domani ci avrò gli occhi indiavolati, fumanti, se guardate c'ha tipo una roba rossa, eh, grande, grande Giulie, amore, dopo puoi vedere se mi sta scoppiando un occhio, sentirà anche la sua voce, non lo so, non lo so, non lo so, se Morrison è qui, poi dopo vediamo, domani comunque gli scrivo, se vuole entrare in party, tranquillamente, tanto noi siamo talmente family friendly che non si dice parolacce, non si dice niente, siamo, anche perché non mi piace, qualcuna la dico, eh, ma devo essere proprio arrabbiato, se non sono avviato, non c'è motivazione, che cos'è che è? No, quello se, ma non volevo che sapere se stava esplodendo, vedendolo, ragazzi, se volete giocare con noi, entrate dentro, eh, sì, brava, vedi che c'ho l'occhiato rosso, guarda, ma è fuori o dentro? Non riesco a capire, no, 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 non sta correndo lui, per noi non ci sono problemi, poi decide il canale suo, no, 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 assolutamente, se volete mettere l'audio diventa una live fichissima, eh, assolutamente, Morrison, qui è casa tua, eh, fai tranquillo, quello che volevi fare si fa, non c'è problema, più entriamo, più ci parliamo, diventa tutto più figo, anche perché un gioco come Warzone penso che bisogna dire anche agli altri dove devono andare, assolutamente perché io mi perdo poi, tra l'altro, eh, ve lo dico, ahahah, normalmente non so dove devo andare, quindi magari voi andate a destra, io vado a sinistra, muoio malissimo perché non ero con voi, che cosa, che cosa gioco, non capisco, non capisco, non ti ho letto prima, scusami, riscrivimelo, riscrivimelo, ti prego, non ha capito che cosa, siamo in due, a perderci allora, un, due, eh, sì, eh, sì, eh, sì, eh, una vita praticamente, e ci amiamo ancora, tantissimo, come quando siamo diventati finanziati, ah, ok, eh, io non riesco a leggere tutto, scusate, raga, no, vedi, porca miseria, allora, devo prenderci un po' la mano, comunque Sharder, quando ti va, fai sentire, sì, 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 assolutamente, gioco, ti aspetto, entra in parti, che, che dobbiamo, dobbiamo parlarci anche, poi diventa tutto più bello, no, anche oggi il mitico, eh, Phil, ne amore mio, allora Morrison, siamo io, tu, Lord, il grandissimo Lord, che è qui, anche stasera, sì, sì, Lord è qui, e prima c'era anche Pierpaolo, che è il dissociatore, quello che ti dicevo oggi, ecco, è il, il marito, il prossimo marito di Giulie, Lord, eccolo qua, Lord, per camera o l'orecchio che si sta gonfiando, per esplodere, eh, sono gli occhi, sono gli occhi che stanno andando, ragazzi, ecco, Lord è lui, Morrison, Morrison, eh, Lord, domani giochiamo con Morrison, eh, e qui in parte anche lui stasera, eccolo qui, no, pensavo che era il dissociatore, ah, 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 e l'altro è il dissociatore Pierpaolo, che c'era prima, ah, sta guardando la partita Pierpaolo, stasera si guarda la partitozza, ha detto prima, andiamo, è dentro anche Pierpaolo, Morrison, sì, 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 ecco qua, come le mie venite, che mi dai forza, esatto, ecco, proprio lui, Lord, bravissimo, ciao amici, oh, ragazzi, vi aspettiamo domani sera, eh, infatti, il dissociatore quando serve non c'è mai, quando non c'è fa un bordello, eh, eccolo lì, Lord, grande Lord, ha disinstallato, installato il gioco apposta, eh, quindi ragazzi, è un piacere, davvero, un onore per me fare una mega live, coppa, coppa, sì, 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 assolutamente, ti mando il bonifico, eh, la Liban, no, hanno bisogno Liban da farci il bonifico, no, è un'altra cosa, domani allora sarà stupendo, sì, sì, gioco, ti aspetto, eh, sì, gioco, poi non devi latitare a venire nelle mie live, devi entrare più spesso, gioco, caspita, eh, anche il grande Morrison è dentro, più di te, dai, no, gioco, gioco, su, forza, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, stiamo correndo con voi, col mitico Sharder, che è il ragazzo, oh, che davvero viaggia tantissimo, ok, sì, 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 domani è divertimento, divertimento, grandissimo Morrison, senza parolacce, star tranquilli, capito, noi lo facciamo per divertirsi, se si muore si rifà, eh, gioco, gioco, caspiterina, ti dovrei, eh, ti dovrei sgridare, ti dovrei sgridare un po', eh, davvero, guarda che il drago si incavola, eh, fai fuoco e fiamme dappertutto, quindi, stai molto attento, sto scherzando, eh, stai molto attento di entrare nelle live di Marco Drano, tutte le volte che lo vedi, tutte le volte che vedi le live devi entrare, ti raccomando, sei qui, oh, grandissima Giulie, grazie, grazie, la mia moderatrice, dai, sai che sta tornando ragazzi, torna tutto bello, torna tutto bello, oh, guardalo, oh, 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 Chi hai tu? Ma chi l'ha lui? Eh no, perché lui la tiene, questa qui non riesco a tenerla. No, 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 questa qua mi fischia la canzone che dedica. Eh? È bella Giulie? Aspetta, aspetta Sharder, scusami eh, perché sta macchina davvero non ci riesco a, sì, non davvero. 458, vediamo se è lei. Non si può fare, Lord, tu mi vuoi vedere copyrightato? Eh, Lord, mi dico Lord, vuoi che mi arrivi le richieste di copyright? Allora, io devo smetterla assolutamente. Ci sentiamo su WhatsApp, così poi, va bene, va bene. Grazie Morrison, buona serata anche a te, grazie per essere passato. Grandissimo, grandissimo. Ciao, ciao, domani Morrison eh. Da Lambo faccio fatica, non si può fare no? Eh sì, diglielo, diglielo Lord, eh, eh, deve entrare qualcun altro. Allora, in teoria no, perché il mitico Phil di oggi non mi ha detto che veniva stasera, probabilmente stasera stava guardando la partita. Esatto, grande Morrison, grande Morrison. Quindi possiamo farla, però con quel Peugeot io non ce la faccio, ti dico la verità. Beh, insomma, però, anche, anche con questa, anche con la Ferrarina. Allora, fammi fare un giretto o due, con la Ferrarina e poi partiamo a fare la gara, ok? E qui è il mitico Shader. Ma perché? Eh, per farlo, ma perché mi... ma perché mi dava da fuori? Chi è? Lord? Eh, esatto. Eh, fammi vedere le cose di copyright. Ciao amici, ciao amici di Twitch, mi raccomando, seguite il canale, grandissimi. Stiamo facendo una bella garetta online, ragazzi, eh, col mitico Shader. Se volete giocare anche voi adesso, eh, basta che entrate, o se non avete, eh... Fammi finire il giro, scusami. Fammi finire solo il giro, Shader. Un secondo. Perché? Devo prendere un po' il feeling. Tu vai forte, eh. Se non ho il feeling giusto... Va bene. Ma farla che giocità non ti è un cavolo. Ma solo veloce e basta. Chi è la macchina. Chi è la macchina, perché fai l'omale. Ma se fai le piste normali è un disastro. Bello. Ah, sì, bravo Lord, eh. Bravissimo. Tu domani mi vuoi sentire cantare, eh. Ti sparo e metto il poco amico. Ok, Shader, vai pure. Ok, dai. Con la ferrarina qua, ci sta. Però questa 458, se la uso con una pista, con i cordoli alti... No, non ci siamo proprio, ragazzi. E comunque lui ha fatto 1,44, io ho fatto 1,50, eh. Eh, Shader non va forte, ragazzi, eh. Dai, dai, Shader, vai, fight, combatti. Lui usa il cambio manuale. Era con la Lambo. Lamborghini. Beh, non so se ho detto che era con la Lambo. Fui, ma era con la Lambo. Non so se ho detto che non ci trovavamo tanto bene. Mica, ma ha fatto 1,44. Ok, vai. Ok, vai, ragazzi. Partiamo, partiamo, partiamo. Lobby a Drago. Trail, litorale. Ok. Go, 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 go. Lambo Huracan, eccola lì, sì, del 2015. È vero, è vero, è vero. Genocidio di Gru. Oh, come fila Lambo. Oh, come fila la Lambo. Oh, come va la Lambo. Madonna. In partenza. Sto mordicchiando. Orca miseria, orca. Madonna, come viaggia quella Lambo. Sul dritto, raga, eh. Non è questione di fare le curve, eh. Credo che ci sia poco da fare in questa gara. Ehm. Eh, purtroppo, ti dico di sì, sai. Non perché sto sbagliando, ma perché quella Lambo sta andando come un fucile. E' proprio un fucile quella Lambo. No. Gr3 no. Bisogna far mare per le compiere le macchine. Far mare, fare soldi. Quella pistola. Oh, fila, grande. Ti stavamo aspettando. Guarda, c'è pronta la lobby anche per te, se vuoi entrare. Mitico. Grandissimo. Credevo che stai vedendo la partita. Infatti ho detto, no, il grande Filo, oggi non c'è. Ho comprato quella Peugeot Fil, ma non mi trovo. Non mi trovo, Fil. Porca loca. Una cosa incredibile. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Ah, ok, ok. Tranquillo, tranquillo. Vai tra. Grandissimo. Avete? No, 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 no. Puoi scrivere quando vuoi. No, c'è problema. Non ti trovi. No, non mi trovo, non mi trovo. A parte che adesso, cioè nel senso, mi sto leggendo, quindi, ciao raga, grandissimo Fil. Non mi sto trovando neanche con la Ferrari perché il grandissimo Charger con la Lambo va che è un cannone proprio. Oggi vado a fare la coppola con il mio compagno. Oh, grande, grande, grande. Mi raccomando, fai iscrivere il canale anche alla tua compagna, ok? E se vi avanza qualche abbonamento Prime, ragazzi, mi raccomando di farmelo, eh, grandissimi, grandissimi, vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio. E come si dice, eh, 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 ho preso la 208, 308. Cos'è che è quella GT3? Non mi ricordo neanche più. Sinceramente mi va un po' di sottosterzo e non apre tanto. Bravo, è vero, è vero. Così si fa. Cos'è che non va con la Peugeot? Eh, a parte che quando freno mi parte via. Tipo, tipo così, no? Arrivo, freno di brutto e gira. Non sta bella ferma, capito? Non ha la frenata bella, bella tosta. E in più, eh, non va niente. Nel senso, l'ho provata prima. Sai la possibilità dopo di andare a vedere, quando finisco la live, l'inizio della mia live, la sto provando. Lord, stai molto attento a quello che dici, eh. Magari, quello scritto, quello scritto. Sì, sì, ma ho mandato le foto e i video, eh, grande, grande, Morrison. Oh, però devi venire domani a otto e mezza, eh. Non è che puoi saltare la live di domani, eh, gioco. Cioè, anche se devi fare qualcosa di importante, devi saltarlo domani. Mi raccomando, eh. Ragazzi, domani siamo con Morrison, Lord, Mitico Pierpaolo e Marco Drums su Warzone. Ok, ragazzi, così facciamo anche dei giochi un po' diversi dal solito Gran Turismo. Da... Devi modificare? Più corti ancora? Ma non va niente, è in velocità. E come per dire adesso, lui sta usando la Lambo, no? In rettilineo mi dà via... Vabbè, lascia stare lì che poi ho sbagliato e non lo sto vedendo. Ma solo in rettilineo mi ha dato via tantissimo. Cosa è scritto, amor? Ah, è sì di Morrison, Morrison. No, grande, Morrison. Poi mi è andato con un paio belli importanti nostri e li ha massacrati. Eh, sì, però... Eh, io l'ho usata qua. Qui... Non... Qui vado più veloce con la Ferrari. La Ferrari non fa robe strane. No, no, no. Lo conosco perché ci parliamo. Da quando sei iscritto al canale ci parliamo. Bravissime persone, grandissimo. Anche il papà... Fortissimo. C'è... For Messenger, sì. Questa è la pista... Credo... Cosa è che ha scritto, cosa è capito? Questa è la pista, credo. Non capito. Sì, io l'ho dato qui. Dragon Trail, dici? Il... In questa? In questa va veramente pochino, eh. Certo che... Shader con quella Lamborghini è... Non è Shader, c'è anche gli assetti fatti da lì. Perché è troppo... A parte che è bravo proprio, non sbaglia mai. Grande Shader! Allora, 458 GTB. Credo che fra tutto... 458. Non so se era una di quelle da un milione, un milione e mezzo. Lasciamo la macchinina rossa da fuori, vai tranquillo. Non so se era costata... Non so se era costata... Scevolo leva forte. Quale? La GT3? Grande. Perché vede la macchinina da fuori, no? Eh sì. Eh beh, è certo qui. Tutte sono potenzialmente top. Però sto vedendo adesso... Che la... È superiore alla Lambo. Quale scusa che mi sono perso? Grazie. Lord, grandissimo. Ciao amici di Twitch! Mi raccomando, come dice il grandissimo Lord, eh! Iscrivetevi al canale! Eh sì, Echiri, ti sta educando bene. Ferrari, Ducati... Bravo, bravo, Kiri. E... Dopo perché adesso è un po' un problema. Nel senso che dobbiamo fare le gare con i cavalli giusti, col pipì. Eh, infatti, infatti, dai, ripigliati subito, giuri! Grandissima! Allora, a livello 1,49... Lui ha fatto 1,44... Cioè, capisci? Bravo, bravo gioco, è vero, è vero. È come stare tra amici, bravissimo. Ciao, ciao, Phil! Grandissimo, buonanotte, grazie che sei passato a salutare, eh! Grandissimo! Ciao, ciao! Domani sera ti aspetto, Phil, se ci sei, eh! Giochiamo a Warzone con Morrison, Lord, Pierpaolo e io, ok? Se ti va di vedere anche un gioco un po' diverso da Gran Turismo. Ok. Notte, notte, Phil, grandissimo! Fai scrivere anche la tua fidanzata, eh! La tua compagna, mi raccomando! Se non hai il Prime, digli di iscriversi! Caspita! Come fa a non avere Twitch? Vi aspetto, vi aspetto tutti, tutti i giorni, ragazzi, eh! Ok, così ci divertiamo insieme, come dice il grande gioco, che è una bella famiglia, tutti insieme, ci divertiamo, ci divertiamo insieme, ci divertiamo insieme. Grande, Giulie, grazie, grazie, grazie! Allora, ragazzi, non ho fatto errori, eh! A parte un paio di muretti, ma il mitico Sharder va troppo forte, ragazzi! Oh, adesso proprio sbagliato! Sì, c'è un Lambo che viaggia, ma viaggia, ma viaggia, ma viaggia! Eccolo che è arrivato! Eccolo che è arrivato, Sharder! Grande! Va bene, va bene! Caspita! Ma che macchina è usata che vai con un treno, vai con un treno mitico! Secondo, però, eh! Non male, non male, non male, non male! Secondo, dirò che non è niente male, eh! Puoi fare l'ultima, che poi devo andare... Sì, 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 sì! Allora, vogliamo fare qui e cambiamo la macchina? Così non perdiamo tempo? Cosa ne pensi? Sì! Vediamo un attimo se prendo questa qua! Mamma mia, mamma mia! No, forse... Forse non ce la faccio a stargli dentro! No, era al massimo e non ce la faccio a stargli dentro! Scommessina! Eh, ci starebbe una scommessina! Allora, 4, 5, 5, 8... Gr3 Facciamo un pronostico? Sì, 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 dai, dai, dai! Dai il pronostico? Comunque fare gare con voi è un piacere, rispetto ad altre persone che i freni... Cosa ha scritto, cosa ha scritto il mitico Sharder? Scusa, eh, scusa! Aspetta! Che mi vengono fuori i messaggi, ma... Poi è un piacere, ripeto, adesso rispetto ad altre persone che mi prendono... Che cosa sono? Grande, grande! Allora, diciamo che ogni tanto anche i nostri freni non è che proprio frenicchiano, eh! Però hai ragione, hai ragione! Io cerco di essere il più pulito possibile... Aspetta un secondo... Ma è possibile che sono 700, eh? Sì, sono 700! E come ti ho detto un sacco di volte, noi giochiamo per divertirci, no? Quindi sta tutto, no? O 6,59... L'aumento di uno e mi va a 6... Ma, ma come è... Va! Da 72 a 73! Ma su di di... Ma sei un pazzo di tuo gioco! Sei proprio un pazzo! Ecco! Ecco là! Ma questo è fuori come un melone! Cioè, passa da... 7,26 a 6,71! Aspetta, arrivo subito, eh! E 7,20... Vabbè, niente, dai! Allora, 671! Più di così non riesco a farlo! Vabbè! Incredibile! Mi va su di 600.000! Giuri! Giugiu! Ciao! Ciao Giugiu! È iscritta! Mitica o mitico? Mitica! Giugiu è donna, né? Sì! Ciao! Se non sei iscritta, iscriviti! Se sei già iscritta, grazie mille che sei passata! Allora, vediamo un attimo... Non ti preoccupare, Lord! Chiudo un occhio! Richard, perché? Cosa ha detto, Lord? Cosa ha detto, Lord? Ha detto qualche stupidata! Bella, grande Giugiu! Grandissima! Allora... Se non sei iscritta, iscriviti! Se sei iscritta, grazie mille! Allora, vediamo un attimo adesso... Oh, grande Giugiu! La mitica Giulia e mia moglie mandano le stesse cose insieme... Grandissime! Iscrivetevi ragazzi! Allora, quando vuoi, Sharder... Lo? Suotatore! Lo? Suotatore! Stasera il titolatore è Grandissimo Chiri! ultimamente grande già iscritta Juju grandissima grazie mille allora mi ricordo mi ricordo a volte ragazzi la memoria dopo col mitico Shard ragazzi qui si sta parlando di uno che va veramente forte io me la gioco ma io e Carlo siamo in sintonia è vero è vero è vero andiamo ok guardate il Lamborghini nozzo come viaggia come viaggia il Lamborghini nozzo che mi dà paga non ce li ho i soldi per comprarla non hai capito stanotte stai su e mi fai i soldi non hai capito non ce l'ho non si può vendere le macchine per fare soldi veloci ciao amici di Twitch allora stiamo giocando online con voi amici il mitico Shard è entrato ieri sera si è iscritto al canale mi ha passato l'id e oggi abbiamo giocato insieme e giochiamo insieme stasera ma lui è un grande viaggia da far paura ragazzi viaggia davvero far paura vediamo se riusciamo a non sbagliare guardate come come mi dà paga in rettilineo o in retifilo chiamatelo un po' come volete Elden Ring su YouTube su YouTube penso su Twitch non lo porterò mai più perché non non ce lo fila nessuno e chi ce l'ha non va di certo no 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 perché non ho mai sbagliato la curva e caspita ero lì vicino ero lì vicino inter 1 io inter eccolo Pierpaolo va che ti cercavamo quando servivi non c'eri si associa c'era grandissimo Morris non voleva sapere per domani il mitico gioco gioco che chiedeva della live di domani grandissimo stra per la cenare eh lo so tu mangi sempre non devi mangiare devi venire qua guarda cosa hai mangiato cosa hai mangiato boss non dimmi la zuppa di patate cosa hai mangiato cosa hai mangiato no che c'era il mitico Morrison e niente aveva chiesto domani domani abbiamo grandissima Juju Warzone Warzone il mitico Warzone è la prima volta che lo porto dopo un bel po' di tempo con il mitico Pierpaolo vedi Pierpaolo che c'è dentro in live in chat il mitico Lord e prima c'era anche il grandissimo Morrison che è un ragazzo veramente bravissimo e andiamo così a divertirci eh perché non c'è competizione non c'è parolacce non c'è cose strane nelle nostre live family friendly siamo una famiglia alle otto e mezza alle otto e mezza inizierà la live con il mitico Warzone Giuli Giuli ti aspetto eh ti aspetto siamo in 4 domani sera e anche in party così almeno riuscite a sentire la voce anche di tutti e siete voi amici di Twitch se volete giocare con me lasciate un'iscrizione un abbonamento se volete e il vostro ID PlayStation così giochiamo insieme eh anche tu Giù Giù se vuoi giocare a Warzone però il problema è che domani sera la lobby è piena quindi faremo più serate sicuramente se vi chiedete ragazzi di giocare insieme ci mettiamo d'accordo sul gioco Ghost Rider lo porterai gratuito su Plus Ghost Rider come mai senti ciao 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 Giu Giu eh sì la Giuli che dice a Giuli a Giù Giu che si chiama Giuli Ghost Rider Ghost Rider graffi su Plus non mi viene in mente non mi viene in mente è Chiri ciao amici di Twitch benvenuti mi raccomando iscrivetevi al canale Ghost Rider eh sulla Playstation 5 non mi viene in mente Ghost Rider ghost Rider ghost Rider dopo vado a vedere Chiri sei sicuro che siamo Ghost Rider? ma l'immagine è rossa? è cosa allora? sì Ghost of Tushima no Ghost of Tushima l'ho portato in live su YouTube è in live su YouTube Chiri se vuoi c'è tutti i video ci sono le ho fatte anche tutte le le varie playlist chi ha detto questo? Ghost of Tushima sì Ghost of Tushima no quello e qual è quello? Legend Ghost of Tushima ma Warzone io penso 4 colpi ci possiamo giocare eh non lo so bisogna andare a vedere su internet a vedere se c'è il crossplay no crossgen scusa se fanno un sondaggio però un po' strano vai vai giuri ah io spero di sì perché anche non so sicuro sinceramente Morrison che consola Lord la PS4 Morrison non lo so ah ok ok scrivi lo scrivi allora praticamente facciamo Warzone eh ma però devo parlare con anche Pierpaolo eh scusa va bene tutto allora facciamo Warzone col mitico Pierpaolo il mitico Lord che sono in lobby stasera e anche il mitico Morrison dopo vado a vedere che gioco è Ghost Runner non mi viene in mente che gioco è Ghost Runner Ghost Runner Warzone 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 aspetta ragazzi come uno di più si è fatto ma penso di sì ma in teoria sì sinceramente domani 20 e 30 grazie madre mia esclusiva Netflix non mi viene proprio in mente di che gioco stai parlando Chiri adesso appena finisco questi due giri vado a vedere ah se ti hai consumato più soldi che è un bel giorno è che ho fatto la giuria di la mitico comunque giù giù hai capito giù 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 ciao ragazzi mitici mitici iscrivetevi alla mia canale e se volete darmi l'abbonamento grazie 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 ragazzi su su hai capito giù giù facciamo una mega warzone eccola qua ma il bambino che diceva quel ragazzo sì 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 è Morrison è bravissimo ragazzi e sono delle persone veramente incredibili sono bravissimi io parlo con il suo papà il Maurizio ed è un grande un grande ragazzi quindi domani sera io vi aspetto otto e mezza a vedere il grande Morrison che praticamente amasserà tutti lui noi siamo di sottofondo di sfondo Marco Drums Lord è mitico per Paolo credo che siamo di sfondo allora Lord Pierpaolo e Morrison sì sì giù giù è proprio il ragazzo che diceva gioco gioco ti ricordi gioco gioco che nella live continuava a dirlo ma in teoria c'è anche dentro stasera gioco ci sei ancora o mi hai già abbandonato Pierpaolo il dissociatore il titolatore il lollatore Lord e il mitico Morrison domani si ride ragazzi si ride ci si diverte si muore ecco ecco uno è questo qui è il Pierpaolo che si di socia sempre madonna oh raga ma perché mi fa così sta ferrarina oh prendo troppo il cordolino ma si che oh bravissima amore mio grazie quando meno te lo aspetti è vero quando meno te lo aspetti sta macchina mi da via 23 non sta andando via di più è sempre più più o meno lì Shader grandissimo ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi non lo vedi tu probabilmente trovo la questione l'amore eh non lo vedrai ancora la passo tu dici un cucito suve sterrato ah 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 suve sterrato dai dopo facciamo allora passo sono curiosa ho visto su Instagram che è un bambino ma credo che è in qualche team ma è bravissimo c'è una cosa che batte i grandi ma dà paura e Morrison è un grande grande dai dai ti aspetto Giulio Giulio alle 8 e mezza adesso non so quando arriveranno dentro tutti quando cominciamo io la lobby la creo anche un pelino prima e 8 e mezza io sono in live comunque entra dentro ci divertiamo vediamo scherziamo poi quando entrano tutti andiamo a giocare a World ok sperando che funzioni tutto bene perché sinceramente io l'ho starato oggi tutti i ragazzi l'hanno starato oggi hanno fatto gli aggiornamenti spero che si possa fare per il discorso della cross gen da ps4 a ps5 ma io credo di sì perché giocavo anche al call of duty il come si chiama l'ultimo lì non mi ricordo neanche più quindi penso di sì scusami ti schiamo con una con la mano mi leggo amore per piacere i grattini grande kiri cocco la manetta anch'io voglio i grattini amore di mio ah prima Giulia prima la Giulia è andata via la connessione riscrivi quello che dicevi Giulia ti ha scritto che anche lei si chiama Giulia madonna ragazzi sharder è una macchina è vero è vero coccoloso ma fa grande grande sharder sei una macchina sei un grande amico mio ok dai allora domani ti aspetto sharder così iniziamo a vedere se funziona facciamo tutto poi se ci piace giocare a warzone ok grandissimo facciamo le live anche se domani sera siamo in quattro magari una esco io o esce qualcun altro ci facciamo girare o comunque dai insomma vediamo un attimo di organizzare anche anche per altri giochi eh io bene o male li ho quasi tutti ragazzi quindi per me non grande sharder grandissimo per me non è un problema anche facciamo il party così almeno ci sentiamo ed è anche un po' più eh più bello adesso vediamo un attimo di fare un bel suve sterrato per il grandissimo Pierpaolo puoi giocare un po' amore mio così mi rilasso un attimino ti va? ah no facciamo un sondaggio giuri scrivi se volete che che corra la mitica Bragali dai dai giochi? eh beh almeno sapevamo la gente se vuole però non sono stato forte se prendo un'auto ah 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 Yugi o Master 2 io ma sinceramente ehm è un casino è un casino è un casino no Bragali no Bragali no ah Pierpaolo grande eh 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 allora allora super sterrato sì tu fai quella sì tu fai quella scherzo Bragali ma certo figurati ma io non sto sul pc non so che vado raga ciao Sharder grande grazie grazie per le mega eh giocate che abbiamo fatto insieme comunque sei molto forte bravissimo 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 quella Lamborghini è illegale però eh ti dovrei di squalificare da tutta è illegale quella Lamborghini eh mi scrivi che Lamborghini è prima che te ne vai se non sei già uscito ecco ok dai su e sterrato mi hanno detto che ci sono anche altre piste da rally ma io sinceramente non non ne ho viste allora facciamoci su e sterratino grande Sharder gli specchi al gioco originale di tanto e tanto fanno online con altre regole no no è bellissimo ci giocavo con non lo dire se no io mando i poliziotti va bene va bene Sharder dai grandissimo comunque sei stato molto bravo bello mi sono divertito belle laivettine anche qualche sportellata dai ci sta di brutto stavo dicendo fai 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 ah non può fare il sondaggio mi sa Huracan GT3 grazie mille Sharder dopo farmiamo poi vado a comprarla così così non mi darei più via nessun rettilineo ah 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 va bene dai la Huracan ti ricordiamo Huracan GT3 perché bisogna farmare non abbiamo i soldi per 450 mila per prenderla la compriamo la compriamo la compriamo io e mia moglie andiamo a comprarci una Lambo alla facciazza vostra ah 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 bravo amore noi ci compriamo la Lambo e andiamo sul suve sterrato con la Lambo GT3 la spacciamo tutta ma che ce ne frega tanto ci abbiamo l'abbonamento col carrozziere dopo dieci carrozzierate una è gratis un lavaggio macchina ti immagini dopo ventimila euro un lavaggio è gratuito madonna 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 ok la vedremo alle prossime gare perfetto perfetto dai martedì sera vado con GT dopo ci sentiamo c'è anche tutta la programmazione ragazzi che devo fare su youtube su twitch così potete vederla direttamente sul canale la programmazione dei giochi io ti ringrazio Sharder grandissimi tutti eccoci qua allora suve sterrato sono fatta difficile sono settimo dai scherzo sai giocare notte grande grande Sharder grazie mille bella lì bella lì l'importante è divertirsi l'importante è divertirsi l'importante è divertirsi bella lì bella lì buonanotte buonanotte Sharder grazie di tutto e mi raccomando fai iscrivere i tuoi amici fate iscrivere i vostri amici ragazzi al canale dai 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 che ce la facciamo buonanotte Giulie grandissima in tutti i giochi eh sono forti sono forti lo so lo so sta parlando di morison lo so sta parlando con gioco gioco si si Giulie sono fortissimi e per colpa del covid si era bloccato un po' tutto mi stava parlando suo papà perché non fanno più si si anche la Giulie va notte Giulie grandissima per via del covid si era bloccato un po' un po' tutto l'ambaradam sia delle fiere delle gare così infatti è rimasto un po' fermo adesso sta ritornando in pista insomma probabilmente faranno anche adesso non so se quest'anno la faranno quella di Milano che non mi ricordo mai come si chiama io ci vado tutti gli anni ok sarebbe bello fare delle partite insieme eh si eh eh si boss si trova il gioco e non c'è problema ragazzi si viene online si fanno delle grandissime partite si vede il gioco da fare anche per dire Warzone bene o male ce l'abbiamo tutti perché se non sbaglio non vorrei dire la stupidaggine ma è anche gratuito no comunque Warzone quindi non serve comprarlo io voglio bene sento ancora bene a domani a domani sera Giulia a domani sera ti voglio vedere che gioca il tuo bello che gioca il tuo maritino dai 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 buonanotte buonanotte vai a letto dormi riposati e stami bene stami bene Giulia buonanotte suve sterratino suve sterratino per il Pierpaolo guarda qui eh Pierpaolo guarda come gli diamo dentro al Subaru sterrato eh con il Toyota Lola d'Or porca Lola d'Or eh c'era giù una banana c'era giù una banana mi è schizzata via la macchina credo che la Mazda la prendiamo beh parte che il show must go sempre la Mazda la prendiamo ma la Camaro si di Splash ecco il gioco che ha risposto alla mitica giuria è entrato prima anche Morrison ha confermato che c'è che entra anche nel party quindi sentiamo la sua voce e e niente vi aspetto domani sera ragazzi otto e mezza giochiamo a Warzone con il mitico Morrison il mitico Lord e il mitico Pierpaolo che sono gli abici di Twitch ma che è un gruppo italiano che sono bravissimi era nello stand di Splash si si mi ha mandato anche le foto e i video si 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 tanta roba tanta roba Morrison è bravo domani sera vediamo perché magari ci ha perso un po' la mano un po' che non gioca ci sta dentro ci sta dentro su Vesteratino amore vi dico tu che va Lord anche Lord vai grande va bene dai io faccio ancora una mezz'oretta poi mi sa che andiamo anche noi amore mio vuoi farci qualche bella partitella guardate che bello sto Toyota Lolador secondi e secondi bella lì Lord grande grande amico mio grazie per essere passato un abbraccio e buonanotte si 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 esattamente esattamente allora andiamo a farci qualche partitella ah no aspetta andiamo a vedere prima quanto costa come si chiamava Lamborghini prima di tutto ti metto la Tomahawk guardate ragazzi mamma mia mamma mia questa è ciao Lord buonanotte amico ciao 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 buonanotte se prendi una pausa guarda il mio video aspetta un secondino dopo quando vado a letto adesso quando esatto quando adesso gioca mia moglie vado a vederlo vai tra vai tra aspetta un attimo che volevo vedere Europa ciao Lord grandissimo Lambo Lambo mi scherzo un'accademia dove hanno i pro play più forti hanno anche un'accademia dove i play giocano studiano fanno live si 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 sono roba incredibili mamma mia questa praticamente solo che questa è con la base lui prende questa gt3 450.000 è ooo verde o blu questa è svizzera vedi questa è italiana vedi che c'è la bandiera italiana dai prendiamo la verde ma come non ho crediti insufficienti anche nel gioco maledetto eh se fai 25.000 compriamo però nel senso non ha sì ma non ha alcun senso perché eh no devi elaborarla un po' altri 20 30 40.000 ci vogliono vuoi fare la solita che facciamo noi la Pan American di 6 Giro o quell'altra di 3 di oggi ok ok ragazzi allora adesso arriverà la mitica Bragali perché la mia schiena penso di averla persa oggi pomeriggio portare alle semifinali la svega su un team italiano di Foddy grande gioco ma anche tu allora sei sei uno streamer e fai giochi pazzeschi eh mitico bella gioco gioco grandissimo e fai quello che vuoi basta che corri giusto la raga basta che corri adesso mi guardo il video del mitico Kiri amore la televisione vai cavoli ciò che passa ti stai lamentando no no fare 4-5 partite 6 eh ah figo non lo so questo mondo però è mi piace questo mondo però è casa mia ok figo figo grandissimo gioco 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 c'è il mio telefono così guardo i video di ancora ancora yeah eh 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 vai piano eh schiva di patata lo fai sempre sta gara finisci la comunque al massimo ci dà 30.000 lozzi eh di 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 Sì, sì. eh si ragazzi allora io vi aspetto domani sera mettici bravo mo dai 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 grande Bragali si Bragali Bragali e la? dai commenta come ci vai a scuola che parli e devi far andare con gli amici di Twitch sto sentendo video di chi è? dai dai mo prena accendola mi devo tenere quando andiamo in macchina che guidi tu tu fai i rally che guidi benissimo ma vai velocissima eh? cosa? 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 devi imparare a usare il sinistro per il freno voce esatto mia moglie non parla non parla devi parlare con alta voce a madre mia dai che metto panche bravissima no ma qua mi hanno beccato dentro eh vabbè 52 no non ti hanno beccato dentro bravissima no no da dire sì mi sento come una sgaloppia sì per Paolo è perché dice sempre così ha sbagliato adesso la possiamo già comprare nella vita 45 sì beh ci vuole un altro un paio due o tre almeno il chrono con gli squash ha vinto anche il mondiale su Starcraft oh la larga tanta roba tanta roba ma stai insomma no è anche il 300 primo al mondo di c'è il contro i cinesi oh la la grande il clan dove è dentro Morrison sì gli clash clash però potevano usare il nome italiano eh clash con la Q o è qualcosa in dialetto che non so più quanti Henri Alza la voce amore mio, sai tutti, devi parlare altra voce, se no gli amici non ti sentono, guarda che hai detto? Eh sì, stai usando piede a sinistra, ahahahah Eh, devi abituarti amore, come sei, come Schumacher Eh no, non li conosco, non li conoscevo, sinceramente non avevi mai parlato di questi fuselag, dopo vado a vedere, dopo vado a vedere, eh? Anche perché domani Morrison è dentro, vabbè, infatti che non lo tartarasserò di domande, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo e parliamo del gioco, però figo, figo, gran roba Oh, ti aspetto, gioco, gioco, giugi, eh, giuri, eh, giugiu, eh, vi aspetto domani sera, eh, e portate un'altra gente, gioco, fai un po' di pubblicità, mi raccomando, gioco, gioco, scrivimi, Laura, come diceva quello di Rocky? Non mi ricordo più, diciamo un nome Che cosa non mi ricordo sì? Che cosa dà guida? Questa cosa l'ispetta? Eh, perché non sei abituata? Eh, ma adesso ti dico con il piede sinistra, che è più veloce? e Piero Paolo dice bella lì, bella lì, Kiri bel video, grande bel video su YouTube grande Kiri mi raccomando gioco, ciao ragazzi mi raccomando di iscrivervi al canale di YouTube eh no mi raccomando di iscrivervi al canale di Marco Drums Games su Twitch e ho anche un sì 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 ciao sei un king grandissimo grande, grandissimi ragazzi entrate dentro, salutate così vi possiamo salutare in live grandissimi, bravo 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 mi raccomando se non sei iscritto iscriviti al canale facciamo live mitiche con Gran Turismo 7 corre Marco Drums Games corro con voi se volete giocare con me grande sei un king e stasera sta correndo la mia bella mogliattina la mitica Bragali un po' di pausa per sé porca eh i ragazzi che ci guardano dicono no ma solo tre ore di live caspita oggi non mi riuscivo più a alzare vero amore mio se volete a venire a tirare su tutto perché chiudo la live prima di alzarmi dopo tre ore che ero seduto è veramente triste dopo vado a vedere il cool flash su Instagram ma gioco non mi hai risposto portami un po' di gente domani fai pubblicità anche tu giuri 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 allora sei un king domani sera allora la programmazione mia è tutti i giorni 8 e mezza fino alle 11 sabato 3 e 5 e dalle 8 e mezza fino a quando si può invece la domenica è 3 e 5 8 e mezza sono il papà di Morrison grande ciao no poverino Maurizio grandissimo ah Morrison è crollato c'è gioco gioco che continua a parlare conosce conosce Morrison gioco gioco devi portare un sacco di gente domani ecco che ha scritto sì sì certo grande gioco guarda che c'è dentro Morrison il papà mamma mia sto facendo un casino ragazzi c'è dentro Maurizio grandissimo Maurizio è il papà di Morrison gioco gioco mi stava spiegando dei Q dei Q slash ah scusa amore mio sto facendo troppe cose di solito guido e basta fai tutto tutto il resto sei bravissimo amore 52 mila dai dai fanno un altro fanno un altro amore mio così gli amici ti vedono correre vedono che sei bravissima sei quasi più brava di me amore mio dovresti farla tu la live invece di io io mi rimango qua tranquillo e tu fai la live no eh assolutamente no ah no ma fa male davvero che mi rinconizioni aspetta che non ti ho messo mi segui gioco gioco ti guarderò grande che mi sono perso allora ti sei perso due sconfitte mie però ragazzi me la sono giocata ci aveva una Lambo shader che raga infatti la devo comprare adesso ho detto moglie mia dai ti prego gioca perché sono stanchissimo non ce la faccio più fammi un po' di millini un po' di millini di 50 millini a volta dai dai bregali vai 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 sondaggio sondaggino dai per Paolo fai un bel sondaggino che sondaggino vuoi allora ho visto il video di Kiri il grandissimo Morrison è qui Maurizio e gioco gioco ha detto Morrison che fa la pubblicità domani fa la pubblicità così porta un po' di io che parlavo di Morrison grande gioco esatto ti sei perso gioco gioco che parlava del grande Morrison per Paolo si dissocia categoricamente sempre quindi non ti sei perso nulla da Pier Paolo e una gara di super sterrato che io gliela faccio sempre per il mitico Pier Paolo che a lui piace il super sterrato con il Toyota Lollador guardate mia moglie che sorpassi allora lei normalmente ve lo dico fa così anche quando andiamo a fare la spesa dice amore mio mi fai guidare a me e io ci sono di così guarda questa è la scena reale ok io sono così tipo ma non perché guida male perché guida bellissimo ma perché va a manetta infatti il quarto ha la faccia e scusa amore dio amore dio si 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 non mi mette tipo oh amore ma non puoi rallentare un pelino grazie Pier Paolo infatti anche lei mi dice stai zitto perché sennò poi mi defoncento e dovrei gesto guidare bene allora io sto muto e sto così curva a manetta che senti le gomme lei tranquilla lì con gli occhiali da sole al momento si fuma la siga ma Morrison è con i Q slash ecco c'è qui il fumo fa grazie Maurizio critico critico domani giochiamo ragazzi non vedo l'ora domani non vedo l'ora è la prima di tante live ma se ti toccano loro può essere tutti dallo stesso ciao amici di Twitch mi raccomando iscrivetevi al canale grandissimi sta giocando la mitica Bragali mia moglie bravissima per raccogliere i fondi per andare a comprarla a Lambo ragazzi perché stasera sono stato sdrumato oh ha detto Morrison che c'è un mezzo contratto ma tutti i muti ragazzi sono visto questo video 170 miliardi di persone eh Morrison grande Maurizio bella lì grande grande Morrison bella lì sono contento sono contento e onorato di che giochiamo insieme tra l'altro eh raga così cresce il canale di Marco Drums Games e crescono tutti mi raccomando fate pubblicità voi ragazzi domani gioca Morrison il mitico Lord il mitico Morrison e la mitico Pierpaolo e il mitico Marco Drums andiamo su Warzone e vi aspetto tutti alle 8 e mezza ok amici miei perfetto la mia moglie mi fa già male le braccia dopo 10 minuti e io ho fatto 4 ore di partita stasera ancora è piccolo eh sì dai però è bravissimo ho visto i filmatini che mi hanno mandato caspi parola proprio proprio bravissimo dai speriamo domani sera allora a questo punto Maurizio eh sì aveva 5 anni quando è entrato nei 2 slash grande se tutto va bene a breve avrò un pc e ho fame e gli eventi insieme vai tra chi io sono qui io sono qui con la mia programmazione giornaliera 8 e mezza 11 tutti i giorni in live su Twitch sì anch'io sto facendo con sì sì gioco gioco sto facendo con la mitica il gatto sto facendo tutte le grafiche e usando il mitico OBS però non riesco a capire per quale motivazione scatta non so se è determinato dal computer che ha un portatile ma un i7 con 16 giga di ram quindi non ce ne fai un'altra poi andiamo a comprare dai e vuoi cambiare pista magari vuoi fare quell'altra eh mettiamo quell'altra così almeno anche i ragazzi vedono qualcosa di nuovo guardate mia moglie come va ragazzi eh normalmente allora come vi dicevo quando andiamo a fare la spesa è così sì amore le borse che arrivano da dietro l'avanti no no amore stai andando bene no no ma non non allentare lei è di tranquilla così mi tranquilla io non so il dietro che ballano il cane che oh lì amore mio scusa stai svegliato ho fatto wow wow allora eh non so amore mio sono vecchio pensa tra un po' di anni quando non mi alzerò neanche più dal letto che dovrei portarmi il joypad che vengo col letto in sala con quel letto che si alza lì eh sì balla tutto eh sì stai ballare tutto ok dai andiamo a fare qualche altro soldino ragazzi perché servono i soldini dobbiamo andare a comprare Lamborghini per poter fare le gare online insieme a voi il mitico Shader stasera mi ha trollato avendo una macchina che andava velocissima lui è bravissimo e ci divertiamo insieme come domani sera che vi aspetto che vi aspetto che vi aspetto eh le live a letto sarebbe veramente il mio sogno anche non alzarmi la mattina per andare a lavorare ti dico la verità però purtroppo purtroppo domani si va allora era America Daytona il gioco del fondatore è Luca Pagani c'è un progetto in futuro per Morrison grande allora grandissimo Maurizio fai pubblicità Marco Drums Games ti prego fai la pubblicità con questo ragazzo qui che hai pronunciato adesso che Pagani mi sembra che hai scritto non lo so digli ok lui non potrà mai entrare nei Qslash ma ti prego fai una pubblicità furibonda è entrato Google è entrato si Google vai tranquillo basta che è entrato Google ragazzi c'aveva mezzo schermo con Google ok ma chi ha detto quella parola lì ogni tanto Google entra dentro in possesso della televisione dico la verità sì sì veramente sì questa è quella che dura poco sono solo tre giri e uno e hai già fatto uno fai di fare gare online davvero davvero e io glielo dico sempre mia moglie lei è bravissima solo che non ha cioè si deve abituare ancora alla poltrona a star seduto tante ore perché lei è attiva vai sempre in giro palestra va disso in giro mica esce e Marco ti ricordi che c'era su Italia sì 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 del Pochia su Italia 1 me lo ricordo me lo ricordo posso giocare con la macchina da fuori sì sì Morrison me lo ricordo ciao amici di Twitch benvenuti con anche i pochi dati picciozzo che non si vedono da dentro la macchina bella lì sta correndo la mitica Bragali con sì sembra che non vai niente è perché non vedi anche le vibrazioni dentro quando sei dentro fa anche il oh figo visto è velocissima guarda come però sta macchina bellissima poi con la livrea con la livrea del eh mo guardate la tuta il commentatore Luca Pagani ah ha vinto tantissimo di diventare un commentatore di poker grande Luca Pagani fico caspita dai dimmi di farmi un po' di pubblicità Maurizio pubblicità al canale Marco Drums Games detto da una persona importante magari riesco ad avere un botto di gente che entra dentro un sacco un sacco di abbonamenti ragazzi abbonatevi al canale di Marco Drums sì 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 siamo ancora un paio dai così poi dopo salutiamo gli amici e compriamo la macchina li salutiamo ragazzi è veramente stato un piacere stare con voi fondatore dei più cazzo che figata quante cose si vengono a scoprire io Morrison ha fatto 30 anni nella musica quindi ho fatto gli ultimi 5 Milano come si chiama Games Week no sì Games Week te ne vai Pierpaolo grandissimo buonanotte buonanotte amico mio ciao Pier domani alle 8 e mezza eh Pier assolutamente anche qualcosina prima io faccio il party ok così alle 8 e mezza iniziamo la live se riusciamo a star dentro tutti è una figata eccolo ecco qui grandissimo grandissimo sì sì tranquillo buonanotte Pierpaolo grandissimo buonanotte buonanotte dai di l'ultima l'ultima cosa che ti viene in mente l'ultima cosa l'ultima cosa che ti viene ad andare Pierpaolo è andato è andato è andato e Morrison ti stavo dicendo no no sarebbe una figata assurda eccolo qua Pierpaolo sarebbe una figata assurda un bel po eccolo lì l'ultima cosa mi dissocia è andato questo volevo sentire ciao ciao Pierpaolo buonanotte gioco gioco ti aspetto giù 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 c'è anche giù giù no devi farmi devi farmi pubblicità Maurizio non fai pubblicità manetta Italia 1 canale 5 fammi pubblicità Marco Drums Games dappertutto Maurizio io prima facevo ero nel mondo della musica ho fatto 30 anni a fare service audio e avevo due gruppi quello con mio papà di Rhythm and Blues Band facevamo un po' di musico Joker Jimi Hendrix Tower of Power un sacco di roba un sacco di roba fichissima e uno hard rock che era il mio dove facevamo un bel po' di roba insomma dai fanno un'altra un'altra una o due amore mio che poi ce ne andiamo intanto che finisco il discorso col grandissimo Maurizio e quindi ero del mondo della musica e dello spettacolo e non quello dei game e queste cose qui avevo pochissimo tempo proprio di stare a casa Mortal Kombat e quindi ho visto veramente poca tv ma tanti concerti live un sacco di gente un sacco di musica un sacco di cosa fighissima dopo hanno deciso che la musica in Italia doveva finire facendo regole assurde perché faceva service che lavorava col mondo della musica tipo che bisognava avere gli ingegneri che ti facevano la certificazione ogni una roba assurda vabbè lasciamo stare anche prima del covid hanno ammazzato tutto il mercato e sono rimasti in pochi quando rimangono in pochi fanno quello che vogliono loro quindi i bar i vari posti dove facevano musica dal vivo hanno cominciato a non farla più e chiaramente poi quando non c'è musica dal vivo la gente poi non si diverte tantissimo a suonare i gruppi poi al fine sono calati e la gente si è spostata sulle piattaforme su videogiochi su Twitch su Youtube fare video fare cose fighissime TikTok eh sì è un casino per entrare là sì sì grande Morison spero che sta rispondendo a chi ieri è una battaglia persa per noi vecchietti quindi mettiamoci la mano sul fuoco la notte la notte e quindi Morison è stato un bel problema ho cominciato a fare le mie belle live su Youtube ho 1300 video quindi se volete iscrivervi anche a Youtube eh ha contattato che Morison era era ottimissimo sì 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 e niente niente io me la camicchio mi diverto e mi diverto con voi ragazzi fatemi pubblicità portate gente sul canale non so ho anche il make up eh sì eh sì si stanca e niente così 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 ciao gioco allora buona notte ok e ci vediamo domani sera gioco gioco ok mi raccomando facciamo l'ultima anzi andiamo a comprare la macchina ciao 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 gioco gioco grandissimo grazie per essere venuto ti aspettiamo domani fai pubblicità la serata vi aspetto anche tutti i tuoi amici parenti il cagnolino fai l'accanto al cagnolino a tutti ok mi raccomando un sacco di gente domani nella mega live intanto io e mia moglie andiamo a comprare la lambo schiacci tu su compra va bene così ti compri tu la tua prima lambo amore mia non dici te la ma me l'ha comprata mio marito la lambo io ho comprato la lambo eh mo eh ma poi tra l'altro scusa un secondo adesso non vorrei fare caccate che mi sto comprando una macchina doppia fammi vedere mica che ce l'ho non ci ho fatto caso aspettate tanto ci metti un secondo magari scrivi la mano lo facciamo volentieri su instagram grande 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 morison allora lamborghini amore vediamo un attimo ma io di lamborghini quella di questo abbiamo lì ma la muscielago non è da non è da gr3 vai è la qual'era? è la gr3 ma credo di avere solo quella di lamborghini io credo eh sinceramente a parte tutto si ok ti conviene cercarlo tu Kiri basta che vai su instagram e cerchi morison dopo il massimo ti faccio eh fatti cercami tu cercami tu cercami tu va bene dai compriamo la macchina perchè non ce l'ho andiamo subito a comprare la macchina e ci salutiamo ragazzi ok morison trattino gamer eh daniele Europa lambo showroom allora scegli tu il colore e schiaccia x quello che ti piace a te a me non interessa ah proprio così mi piace questa ah va bene aspetta e questa ce l'hai già una si è vero l'altra lambo è verde eh allora dai vai di blu vai di blu è vero hai ragione allora vai su acquista passa la carta si passa la carta america america ecco qui amore mio la tua prima lambo ah 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 grandissimo grandissimo morison sei un grande sei un grande bella lì vuoi farti una garetta poi andiamo con la nuova lamborghini no domani dai dai la faccio io la faccio io veloce ma si può andare a letto dai una gara veloce una gara veloce ragazzi sono una gara tre minuti tre minuti e proviamo la lambo circuiti mondiali ci stiamo amore non si può è uguale alla mia grande morison minchia hai una lambo gr3 sti cacchi grande facciamo dai tona così dai veloce veloce ciao kiri buonanotte 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 a tutti ragazzi facciamo l'ultimo giro ci salutiamo e ci vediamo domani sera vi aspetto tutti serata world zone con morison si si vai vai voi li vedete da dentro la lambo l'ultima gara che corre la mitica bragali noi poi vi aspettiamo domani amici domani con world zone il mitico morison il mitico lord e il mitico pierpaolo ok raga grande kiri si si facciamo questa tanto per provarla e poi dopo ce ne andiamo ce ne andiamo a nanna grande morison grande morison grandissimo morison un po' una delusione un po' una delusione non è un bel cruscotto quel cosino lì digitale ma come ti sembra come ti sembra come macchina tiene te c'avevi un proiettile prima adesso ti stai mettendo 40 56 secondi a fare un giro con l'altro alle 30 lo facevi e quello ti faccio usare la tomah eh si tu di che qua non prendi niente ah neanche vede la tomah grande grande kiri bella 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 morison ci vediamo domani sera per una mega serratotta kiri ti aspetto e porta gente vai e aspetto tutti ragazzi domani sera ok raga oh vediamo da dentro vai grande kiri ti stava chiamando liban kiri non c'è problema domani ti mando liban un paio di mini millini bella bella comunque sta lambo è bella 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 e bella raga un paio di millini sono sempre accettabile mille con questa qua mille dai vedi che bella allora sullo sfondo della mitica lambo che porre ragazzi io vi saluto vi ringrazio grazie morisono a tutti quelli che siete entrati stasera se non vi siete iscritti iscrivetevi se siete iscritti grazie mille se volete far l'abbonamento è ben accetto e vi ringrazio tantissimo se volete entrare divertirvi entrate tutti i giorni alle 8 e mezza con Marco Drums e la mitica braga grazie amore mio bravissima tata hai guidato benissimo amore mio c'è anche la mitica cagnolina che lei dorme sotto non si fa vedere qua fai vedere la cagnolina Oli saluta gli amici amore dai vieni tata ecco qua ecco qua la mitica Oli perfetto quindi ciao amici buonanotte a tutti grazie mille portate gente sul canale invito ai vostri amici parenti di iscrivervi e assolutamente vi aspetto domani sera con Warzone Morrison Lord Pierpaolo e grande Marco Drums in una bella partita a fare la guerra su Warzone ciao a tutti buonanotte ragazzi ciao ciao a tutti ciao amici grandissimi amici ciao ciao buonanotte 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 ciao amici ciao buonanotte dai buonanotte ciao eh dai stavo aspettando che salutavano grandissimi ciao Kiri ciao Morrison buonanotte a domani ciao ciao amici buonanotte ciao 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 Grazie a tutti.